Siamo qua, siamo qua con un pernetto di colore, l'ha venuto così, si chiamava Abuisiano, l'hanno chiamato Abuisiano, ma voglio sapere, cosa ti provo a fare con la vittoria? Non si può dire, non si può dire, quello che ho qua adesso, è troppo grande, è troppo grande. Un'altra domanda, me la paghi una scena per la palla che ti ho dato o no? Io, sì, sì, certo. E poi un'altra cosa, quanto cazzo vuoi? Eh, si deve correre, io per vincere si deve correre. La prossima, la reggia, per valore la reggia, poi non lo so, per me lo riamo.